3.600 somministrazioni alla settimana, questo è il ritmo al quale procede la campagna vaccinale anti-covid in provincia di Sondrio, per le terze dosi spiega a SST 8.000 posti liberi da oggi a fine dicembre 2 kg di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia di stato in bassa valtellina tra le denunce al termine di un blitz compiuto dalla squadra volante della questura di Sondrio Sondrio 35esimo posto in classifica per la qualità della vita, il capoluogo scende di 7 posizioni rispetto allo scorso anno, al primo posto la città di Parma Frate Stefano Luca, sondriese 35enne che ha lasciato la vita da attore per indossare il saio parlerà di giovani in una società che cambia nell'incontro che il più del dicesimo proporrà giovedì sera Buonasera, buonasera a tutti, la campagna di vaccinazione anti-covid prosegue sia con le somministrazioni delle prime due dosi sia con le terze dosi, da oggi a fine dicembre spiega a SST ci sono 8.000 posti liberi, vediamo 3.600 somministrazioni a settimana, questo è il ritmo al quale procede la campagna vaccinale per le prime, seconde e terze dosi in provincia di Sondrio per chi prenota in questi giorni, fa notare a SST Valtinato Lario, ci sono oltre 8.000 posti liberi per la somministrazione della terza dose tra la seconda metà di novembre e il mese di dicembre le somministrazioni settimanali, spiega l'azienda, sono in linea con quanto indicato dalla Regione in base alla disponibilità dei medici vaccinatori, dell'apertura dei centri vaccinali che a differenza della prima fase, della campagna massiva, non sono operativi tutti i giorni a Sondi e Morbegno, i centri maggiori, le richieste sono più alte rispetto ad esempio a Villa di Tirano dove questa settimana ci sono oltre 80 posti liberi per terza dose e chi prenota oggi può già vaccinarsi giovedì prossimo. A volte il sistema propone appuntamenti in Val Camonica o in provincia di Como ammette l'azienda, il consiglio è quello di riprovare il giorno successivo, qualora ci fossero difficoltà nella prenotazione si può sempre chiamare il numero verde regionale 800-894-545. Molti medici vaccinatori sono tornati ai loro impegni negli ospedali e negli ambulatori per soddisfare le richieste di pazienti e utenti e smaltire le liste d'attesa, spiega il direttore sociosanitario paolo formigoni, dunque non possiamo garantire gli stessi numeri del periodo estivo, cerchiamo comunque di aprire posti nei centri vaccinali sulla base della saturazione degli stessi in linea con quanto indicato dalla regione con l'obiettivo di fornire una risposta in tempi brevi a tutte le persone che si prenotano. L'andamento dei contagi mostra in provincia di Sondrio un sensibile incremento, i primi tre comuni per incidenza covid rispetto alla popolazione sono Caspoggio, Grosio e Vervio. La Lombardia resta in zona bianca ma meglio tenerla a guardia alta, concetto ribadito sabato a Sondrio dal Presidente della Regione. Anche perché noi abbiamo fatto più vaccinazioni rispetto a tutto il resto del paese, però dobbiamo stare un po' attenti, non lasciamoci andare. La cronaca a due chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato in bassa Valtellina, i fatti resi noti oggi dalla Questura di Sondrio sono avvenuti nella mattinata di sabato scorso verso le 7.30. Il personale della squadra volante è intervenuto in un'abitazione per accertamenti e ha notato a causa del forte odore dei barattoli di vetro e una cassetta che contenevano dello stupefacente, più precisamente marijuana. I controlli si sono trasformati in vera e propria perquisizione, gli agenti della Questura di Sondrio hanno scovato e sequestrato due chili di marijuana e un grammo e 63 di hashish. Per questi motivi hanno denunciato alla Procura Repubblica di Sondrio il proprietario di casa di 45 anni e due persone di 19 e 45 anni che vivono in quell'appartamento. Sono in corso gli accertamenti per definire se vi siano eventuali ulteriori responsabilità per l'attività di spaccio di stupefacenti. Non è stata lei a dare la droga ai due amici morti d'overdose o quantomeno non ci sarebbe la prova. Assolta oggi in tribunale a Lecco la 21enne valterinese accusata di cessione di sostanza stupefacente e morte quale conseguenza di altro delitto. La tragedia si era consumata in pieno lockdown a Colico a perdere la vita due ventenni dell'Alto Lago. Assolta dall'accusa di essere stata lei a dare la droga ai due ragazzi morti a causa di un cocktail micidiale di alcol, metadone e farmaci. Contradditorietà della prova il termine giuridico. Il giudice per le evidenze preliminari del tribunale di Lecco Salvatore Catalano ha assolto dalle accuse di cessione di sostanza stupefacente e morte quale conseguenza di altro delitto e ala della morte la 21enne valterinese a processo per il decesso di Daniel Ghedin, 19enne originario di Sorico e Riccardo Micheli, 18enne di Piantedo. La tragedia si era consumata in piena emergenza coronavirus. Il 26 aprile 2020 i due ragazzi erano stati trovati già esanimi in un appartamento di via nazionale a Colico, con loro e Ala e un'altra ragazza all'epoca minorenne, oltre a un giovane che però non aveva preso parte al festino a base di alcol e droga. Secondo la procura, il sostituto Paolo del Grosso aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi per la valtellinese. Sarebbe stata proprio la giovane, già in cura al CERT per problemi di tossicodipendenza, a dare ai due ragazzi il metadone. Sulla base degli elementi e dalle testimonianze raccolte dai carabinieri del comando provinciale di Lecco, le boccette trovate nell'appartamento, 16 in tutto, sarebbero state portate dalla ragazza. Non ci sarebbe però la prova, anche se si attendono alle motivazioni della sentenza, che sarebbe stata proprio lei a cedere il metadone a due amici, che potrebbero invece averlo preso a sua insaputa. Tesi sostenute dai legali di Eala, gli avvocati Manuela Ghezza e Marcello Perillo. La lettura della sentenza è stata accolta con sconforto dai parenti di Daniele e Riccardo, presenti in tribunale. La procura potrebbe ricorrere in appello. A fine marzo, la ventunenne valtelinese aveva patteggiato per un'altra vicenda un anno di carcere per furto aggravato. Lecco e Sondrio perdono qualche posizione ma reggono una parte alta della classifica, crolla invece Como a vincere la graduatoria della Qualità della Vita di Italia Oggi e Parma. Vediamo il servizio. Nella parte alta della graduatoria, tra le province dove si vive meglio, pur facendo segnare complessivamente un leggero passo indietro rispetto allo scorso anno. Lecco al 32esimo posto, Sondrio al 35esimo nella classifica sulla Qualità della Vita, redatta da Italia Oggi e realizzate insieme all'Università La Sapienza. Il capoluogo manzoniano perde sei posizioni, quello valtellinese sette. Decisamente peggio fa Como che dal diciassettesimo posto del 2020 fa un balzo oltre la metà della classifica finendo in sessantaduesima posizione. Tra le città scivolate pesantemente all'indietro anche l'Aquila, Belluno, Udine, Varesero, Vigo, Prato, Benevento, Fermo, Rieti e Nuoro, mentre le grandi città del nord scalano la classifica con il primo posto di Parma che guadagna oltre 39 posizioni e Milano al quinto posto che ne scala 40. C'è un perché. Parma appartiene al cluster Metropoli, ossia il raggruppamento di aree urbane del centro nord che ha fatto registrare una migliore capacità di reazione alla pandemia. Non solo, la classifica negli anni scorsi, spiega Italia Oggi, finiva per sovrappesare un indicatore, quello della popolazione, che contiene le classifiche di densità demografica, emigranti, morti in percentuale, immigrati, istruzione, nati vivi in percentuale e numero medio dei componenti della famiglia rispetto a tutti gli altri e si è deciso quindi di ridimensionarlo attribuendogli un peso uguale o di poco superiore ad affari e lavoro, ambiente, sicurezza, salute, tempo libero e reddito. Probabilmente anche questo ha contribuito a migliorare la posizione dei grandi centri rispetto ai piccoli. Un altro dato, su affari e lavoro, l'ecco scivola dal 34esimo al 39esimo posto, Sondrio da 45 a 58, ma qui vuole il turismo grazie anche alle vacanze di prossimità. A chiudere la classifica sono ancora una volta le città del sud, con Crotone, Fanalino di Coda. Archiviato con successo l'ottobre in rosa di ATS dalla Montagna, 32 le associazioni coinvolte oltre ad ASST, i medici di medicina generale, le farmacie, le amministrazioni comunali e diverse istituzioni. Ecco il bilancio delle iniziative organizzate in valle. 32 associazioni, le ASST, i medici di medicina generale, le farmacie, le amministrazioni comunali e diverse istituzioni. Sono i partecipanti dell'edizione 2021 dell'ottobre in rosa che si è appena concluso. Proprio per rendere merito a tutti gli attori che hanno preso parte al mese dedicato alla prevenzione, l'ATS della Montagna ha voluto organizzare un breve incontro che si è svolto al polifunzionale di Aprica e ha riunito le associazioni che ancora una volta hanno reso possibile l'iniziativa. Anche l'edizione 2021, come era già avvenuto lo scorso anno, si è svolta in versione ridotta, ma l'adesione è stata corale da parte del territorio. Momento clou di questo ottobre in rosa è stata la staffetta, 28 complessivamente le tappe di cui 15 per il distretto della Valtellina, Alto Lario, e 13 per quello della Val Camonica. 107 i comuni coinvolti, di cui 69 in provincia di Sondrio. In totale sono stati percorsi 577 chilometri. Ad accogliere i camminatori all'arrivo sono sempre stati presenti i sindaci, numerosi lungo il tragitto, i monumenti di interesse, così come le sedi delle amministrazioni comunali illuminati di rosa. Un segno della campagna è presente anche al Parco Bartesaghi di Sondrio, dove sono stati messi a dimora alcuni alberi dedicati all'evento. Riuscitissima la pedalata all'ostelvio, seguita da un convegno per parlare di sport e prevenzione, così come i due convegni dedicati alle ludopatie e alla prevenzione pediatrica. Tornano giovedì sera gli appuntamenti delle scuole Pio XII dedicati a genitori ed educatori. A intervenire sarà Fra Stefano Luca, ex studente proprio del Pio XII, Sondriese, che da attore è diventato frate, oggi impegnato con i giovani. Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, disse San Giovanni Paolo II. È ciò che ha fatto Fra Stefano Luca, Sondriese, che ha seguito prima la passione per il teatro, poi la vocazione diventando frate Cappuccino, per operare nell'ambito del teatro sociale in Europa, Africa e Medio Oriente, e ora a Milano, su un progetto di rievangelizzazione giovanile in ambiti di fratellanza islamo-cristiani. È Fra Stefano, già liceale in questo istituto, l'ospite che giovedì sera alle 20.45 al Cinema Excelsior segnerà la ripresa dei tradizionali appuntamenti per genitori ed educatori, che da sempre caratterizzano il Pio XII. Le scuole Pio XII raccolgono i bambini da pochi mesi d'età fino alla fine della scuola secondaria di primo grado. Il nostro percorso è quindi proprio concepito in verticale, proprio l'idea di essere una stampella per la famiglia nell'educazione dei propri figli. Come ogni anno noi scegliamo un tema che possa essere il filo conduttore e fondamentalmente la sottolineatura educativa dell'anno. Quest'anno abbiamo scelto il coraggio del presente. Ci sembrava importante segnalare a noi stessi, ai nostri genitori e ai nostri ragazzi, che in una situazione così fragile come quella in cui viviamo ci sia bisogno di essere coraggiosi, ma dove il coraggio nasce da una personalità che via via si sta formando. Cioè bisogna andare in profondità per sapere avere il coraggio di vivere il presente. E su questo stiamo cercando di lavorare e di proprio produrre la nostra offerta. Ci sarà l'incontro con Fra Stefano Luca, che è un nostro ex alunno, che ha fatto da noi il liceo e che ha fatto un percorso interessantissimo e che verrà a ridare inizio a quello che era una tradizione della nostra scuola. Cioè di una serie di incontri rivolte alle famiglie su temi educativi che possano permettere ai educatori e a famiglie, a genitori quindi, di avere delle coordinate di riferimento, degli scambi di opinione e un lavoro proprio di confronto su tematiche educative. Quindi sicuramente Fra Stefano parlerà della crisi e i bisogni dei giovani d'oggi proprio in una società che sta cambiando velocemente. Quindi sarà un momento di grande confronto. Ora parliamo di sci di turismo. Sabato 27 novembre, la data ufficiale dell'apertura degli impianti di risalita della Schiare a Valchiavenna. Le nevicate le settimane passate e le basse temperature avevano fatto ben sperare di poter aprire con qualche giorno di anticipo, spiega la società. Purtroppo in questi ultimi giorni le alte temperature e la pioggia caduta fino a quote elevate ha disatteso questa possibilità. Mercoledì 24 novembre, precisa la società, verrà data comunicazione col dettaglio delle piste e degli impianti fruibili. Presentato oggi nella Caserma Lessi, sede del Comando Provinciale dell'Arma, il calendario storico 2022 dei Carabinieri, un'edizione speciale illustrata con tavole d'autore e testi di un famoso giallista. Ha raggiunto la tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue. Il calendario storico dell'Arma è diventato nel corso degli anni un oggetto di culto. Dopo la presentazione nazionale a Roma, oggi è stato illustrato nella Caserma Lessi, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Sondrio. La pubblicazione del calendario è giunta alla sua 89esima edizione. La prefazione è curata dal Comandante Generale dell'Arma Teoluzzi. Le tavole firmate dal maestro Sandro Chia, uno dei principali esponenti della transavanguardia, accompagnate dagli intriganti testi di Carlo Lucarelli, scrittore, autore di programmi, sceneggiatore e conduttore. 12 mesi con l'Arma dei Carabinieri, calendario storico, con un maestro dell'arte e un grande scrittore. Sì, quest'anno si chiude il ciclo triennale di transavanguardia. Abbiamo il maestro Chia come autore delle tavole e abbiamo Lucarelli per quanto riguarda la parte narrativa a raccontare 12 storie per i 12 mesi dell'anno. È un viaggio dentro la storia dei Carabinieri e il rapporto fra l'Arma e la popolazione. Sì, parliamo dei 200 anni del Regolamento Generale che nel tempo chiaramente si è adeguato nei contenuti, nelle forme, ma la sostanza vera è rimasta la stessa, quindi la vicinanza alla popolazione e il Carabinieri per la gente. Questo calendario è davvero una tiratura notevole. Quest'anno siamo arrivati a 1.200.000 copie, di cui 16.000 in nove lingue diverse, sia dall'inglese, al francese, al portoghese, al lusso, all'arabo, quindi veramente una diffusione, una vicinanza ai Carabinieri manifestata dal calendario, che si può trovare nello studio professionale, nel bar, nel ristorante o anche a casa dei privati cittadini. Presentate anche altre due sempre più apprezzate opere editoriali, il calendarietto da tavolo 2022, dedicato al tema Carabinieri, persone e territorio, e il planning 2022, che racconta lo squadrone e riportato cacciatori. Svelato anche il nuovo sito dell'Arma www.carabinieri.it. C'è anche una finalità benefica? Per quanto riguarda il calendario da tavola e il planning, tutto il ricavato verrà destinato rispettivamente all'Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell'Arma e all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo, che è un centro di riferimento per i bimbi, sia per il Sud Italia, ma più in generale per l'Italia. Bene, con questo davvero tutto, l'appuntamento anche sul web, il nostro sito è teleunica.com, lì c'è anche la nostra web tv, come è sempre la nostra presenza, su tutti i principali social. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.